A livello professionalistico con una società americana, dopo due anni di esperienze con il team e con la vita qui di Luca Damiani, cambia casacca ma rimane in America, un grande personaggio per quanto riguarda anche la tintana di ciclocross. Prima abbiamo parlato con il sindaco di Monteno, Monteno che per anni ha ospitato una gara del trofeo regione Lombardia. A Morbigno quest'anno...